Il 2016 è stato un anno ricco di risultati importanti per il senatore molisano del Partito Democratico Roberto Ruta, risultati illustrati nel corso di una conferenza stampa organizzata per fare il bilancio dell'attività svolta dal parlamentare nel corso dell'anno che ormai volge al termine. Il 2016 è stato l'anno del Parco Nazionale del Matese, ricordato con orgoglio il senatore che tra l'altro è risultato dodicesimo sui 315 senatori in ordine di presenza e 26esimo sui 945 parlamentari eletti. Il Parco del Matese è una vittoria per il Molise che ha ricordato Ruta è stata possibile anche grazie all'impegno dell'altro senatore molisano, Ulisse Di Giacomo, entrambi infatti hanno presentato gli emendamenti recepiti dal relatore e approvati a larghissima maggioranza. Ma l'anno che sta per concludersi è stato anche l'anno degli sgravi contributivi per le assunzioni nel mezzogiorno per tutto il 2017, secondo quanto prevede la legge di stabilità 2016, un risultato ottenuto anche grazie alle continue sollecitazioni partite proprio da Ruta e da altri senatori del sud. L'impegno del parlamentare molisano del Partito Democratico ha interessato diversi settori, il trasporto ferroviario con la fermata a termoli del treno Frecciarossa e l'attribuzione alla regione di 90 milioni per l'estinzione del debito contratto con Trenitalia. Altro versante che ha visto in linea Roberto Ruta è stato quello del mondo agricolo che ha consentito l'attivazione di 160 milioni di euro per il piano giovani in agricoltura che contiene diversi emendamenti presentati da Ruta. E poi c'è la legge sulla tracciabilità dei prodotti delle filiere agroalimentari a tutela della salute dei cittadini e contro la contraffazione. Un test al quale il senatore molisano ha contribuito in maniera determinante. Come determinante è stato il suo apporto alla stesura della legge a sostegno del settore del cinema con particolare riferimento alle sale presenti nei comuni con meno di 15 mila abitanti e della cultura con l'attivazione del bonus dei 500 euro per i 18 anni. Ma l'impegno di Ruta ha riguardato anche la permanenza in Molise della Corte d'Appello messa fortemente a rischio dalla revisione della mappa giudiziaria. Un lavoro costante è quello del parlamentare molisano che però già guarda al 2017 ai tanti impegni che lo attendono per tutelare e salvaguardare il Molise e le altre piccole realtà che in un'ottica di risparmio e tagli rischiano di scomparire.